Ben trovati a un nuovo appuntamento con UnicaTalk, oggi vogliamo parlare dell'importante lavoro che svolge quotidianamente l'associazione Lezioni al Campo, ecco perché accanto a me, ospite in studio, c'è la presidente Marta Casalone. Benvenuta. Buongiorno, ciao. È un piacere averla qui. Parliamo di questa associazione. L'associazione è nata nel 2015 quando è stato costituito l'Hub Albione. È lì che, diciamo così, la vostra attività è iniziata, ha preso piede. Esatto, ormai sono otto anni fa, in modo spontaneo alcuni insegnanti e alcuni studenti volontariamente ci siamo ritrovati a fare lezioni di italiano. Ai tempi, penso che molti si ricordano, c'erano le tende e poi i container Albione. Ecco, non l'abbiamo detto, l'Hub per l'accoglienza dei migranti nel 2015. E quindi avevamo deciso di trovarci a insegnare italiano a queste persone. Da lì poi ci siamo costituiti nel tempo in associazione, siamo organizzati e abbiamo continuato questa azione di insegnamento dell'italiano. E abbiamo in parte poi seguito i ragazzi nella formazione al lavoro, nella ricerca del lavoro, annosa ricerca della casa, per i documenti. E oggi a distanza di otto anni ci troviamo con nuove persone sul territorio e una continua comunque azione nell'insegnamento dell'italiano. Ecco, non insegnate soltanto italiano però, come diceva prima, è un aiuto più complessivo, nonostante voi siate tutti assolutamente volontari e, questo è giusto precisarlo, nulla avete a che fare con le cooperative che poi di fatto gestiscono gli Hub o l'accoglienza. Esatto. È una cosa diversa. Ti ringrazio per la precisazione. Poi capita molte volte che alcune delle persone che risiedono presse le cooperative, i centri d'accoglienza, vengano da noi a imparare italiano. Per esempio in questo momento alcune delle mamme che vengono al mattino con i loro bambini piccolissimi vivono nei centri d'accoglienza. E quindi ci siamo organizzati quei centri affinché riescano a venire. Ci sono mamme che risiedono alginate e mamme che risiedono a malgrate, riescono a venire a lecco. Abbiamo una bellissima area baby con delle babysitter che curano i bimbi mentre le mamme studiano. Non diciamo tutto subito, andiamo per gradi. Lab al Bione nel 2015, dal 2015 al 2013 voi avete fatto lezioni a circa mille persone. 2015-2018, più o meno mille persone. Numero importante. Sì, sì. Poi è chiuso Lab del Bione. Esatto, anche a livello nazionale gli arrivi sono diminuiti. Noi ci siamo un po' ridotti. Abbiamo fatto italiano per un certo periodo all'Arci. C'erano dei ricongiungimenti familiari. Venivano ragazzi senegalesi che si erano ricongiunti con i loro parenti. Venivano a lezione. Dopodiché abbiamo deciso di partecipare al progetto Gerenzone, proposto dal Comune post-Covid e quindi abbiamo trasferito la nostra scuoletta al Libero Pensiero dove tuttora abbiamo la sede legale. A Libero Pensiero abbiamo fatto per tre anni più o meno una piccola scuola su numeri piccoli anche in una zona dove ci sono famiglie straniere. Quindi magari era comodo per le mamme, per le persone, raggiungere la nostra sede. È vero che per chi viene da fuori, rancio il Libero Pensiero è un po' scomodo. E quindi abbiamo deciso recentemente di trasferirci. Ecco, questo è molto importante. Più giù, più giù, Corso Promessi Sposi, dove c'è la moschea? Esatto. Noi la chiamiamo la città, centro culturale islamico. Da parte della moschea c'è un'altra porta. Vicino al tribunale, giusto? Si sale al primo piano, sopra la moschea, e lì ci sono aule di studio. Questo è un bel messaggio, perché è un messaggio di grande e forte integrazione. La domenica mattina c'è l'insegnamento del Corano, mi raccontavi? Del Corano e dell'Arabo per i bambini, bambini ragazzi di seconda generazione, che quindi sono nelle nostre scuole italiane, e alla domenica recuperano questa parte linguistica della loro cultura, della loro tradizione. Ma in settimana ci siete voi? In settimana ci siamo noi di lezioni al campo, facciamo italiano tre mattine a settimana e due sere. Abbiamo quello che ti citavo prima, l'aula bimbi. Siete molto orgogliosi di quest'aula bimbi, perché molte delle studentesse sono mamme, che hanno bambini piccoli. Sono molto piccoli, i bambini non possono frequentare così piccoli la scuola dell'infanzia. Ma loro non potrebbero venire se non ci foste voi? Esatto, neanche al CPA potrebbero partecipare alle lezioni, il CPA e l'insegnamento degli adulti, la scuola ministeriale per l'insegnamento degli adulti, non potrebbero andare ovviamente. Con cui voi collaborate? Esatto, con i bambini. Allora abbiamo organizzato questa struttura, quindi quella bimbi con le babysitter, in collaborazione anche con... Tutti volontari anche queste? Sì, sì, assolutamente. Tante nonne. Nonne e due, e tra un po' un'altra ragazza del Bertacchi, che è in alternanza scuola-lavoro, vengono a darci una mano. Loro tengano i bambini e voi fate lezioni alle mamme. Esatto, e le mamme possono studiare e penso che sia un segno importante nel senso per queste donne, che provengono da culture molto diverse dalle nostre, da situazioni economiche e culturali molto diverse. E quindi a distanza di tempo dall'arrivo dare la possibilità alle donne e chiedere anche a loro un impegno, perché per loro è un impegno venire a studiare italiano è anche una fatica. Molte sono bravissime, ovviamente, però a tratti sì, si registra una fatica. E richiediamo un impegno, quindi per esempio con alcuni centri di accoglienza richiediamo la collaborazione del centro per insistere che le donne vengano. Magari con alcune possiamo aiutare sull'abbonamento affinché prendano il treno, eccetera, eccetera. Però richiediamo poi la frequenza, la costanza. È un modo per emanciparsi e potersi integrare in una società come la nostra, che è una società in cui si lavora. Il contesto nostro è strettamente legato al lavoro, ma senza lingua non si può lavorare. Senti Marta, ma sono una cinquantina gli studenti che frequentano i vostri corsi, le vostre lezioni in questo periodo. Voi avete fatto lezioni anche ai ragazzi che sono arrivati alla scuola di Bonaccina poche settimane, tre settimane, poi è stato aperto, chiuso il centro. È stata un'esperienza particolare. A noi è stato chiesto in queste settimane di apertura, funzionamento di questo hub, di insegnare comunque italiano a questi richiedenti asilo, a questi giovani uomini, a questi ragazzi. E quindi anche loro sono venuti alla città a imparare italiano, un gruppo alla mattina, un gruppo alla sera. Alla sera avevamo indirizzato le persone provenienti dall'Egitto perché avevamo appunto delle collaborazioni con mediatori arabi, dei nostri volontari parlano arabo. Quanti sono i volontari, 30, 35? Siamo più o meno a 30, 35 diciamo. E il ritratto del volontario, le denti kit? Allora diciamo ci sono due i denti kit. L'insegnante in pensione che comunque ha maturato in questi anni di lavoro una competenza e desidera comunque continuare a spenderla e abbiamo dei bravissimi ex insegnanti che sicuramente hanno fatto la storia di molte delle nostre scuole del territorio e sono una risorsa preziosissima e una competenza vera spendibile. E poi abbiamo anche tanti giovani, giovani che stanno studiando lingue, giovani che stanno studiando mediazione culturale, piuttosto che giovani insegnanti che vogliono venire, che vengono ad aiutarci. C'è stato quest'estate, io sono entrata in un momento di lezione in cui una delle nostre giovani volontarie stava interagendo con un gruppo multietnico. C'erano alcune persone giunte dall'Ucraina, persone pakistane, una mamma afghana e questa ragazza passava dal russo all'inglese con una facilità che io non avevo ancora visto. È anche bello veramente che questi giovani si valorizzino e regalino le loro competenze. Sì, però è un'esperienza importante anche per loro. Voi collaborate con il CPA? Allora sì, sul CPA... E poi anche con le cooperative con Itaca, con il Gabbiano? Allora, facciamo... Cose diverse. Esatto. Allora, in questo momento abbiamo deciso, quindi è da settembre, di provare questa collaborazione col CPA, perché noi siamo ovviamente insegnanti, ma non possiamo certificare. E l'unico ente che può certificare è il CPA, ovviamente, perché è una scuola statale. Quindi facciamo questa cosa. Chi arriva fa da noi il livello base, livello a zero, quindi c'è gente che sta imparando a scrivere perché è nella città d'origine, nel paese d'origine e non è mai andato a scuola. Quindi persone che imparano a scrivere, persone che imparano a parlare in italiano, e facciamo appunto i livelli a zero, a uno. Dopodiché a gennaio abbiamo il test di accesso al livello a due, che invece gestisce il CPA. E dopo il secondo quadrimestre di a due, con il CPA, si può avere la certificazione. Siamo in chiusura perché il tempo veramente fugge. È un progetto importante su Malgrate. Allora, su Malgrate. Siamo partiti quest'estate, che è un po' sollecitati da urgenze, da criticità che abbiamo incontrato nei bambini che vivono a Malgrate. A Malgrate c'è un hub di sole donne. Un centro d'accoglienza. Un centro d'accoglienza. In realtà non sono sole donne, però c'è un gruppo importante di donne con bambini. I bambini sono molto piccoli. Quest'estate, quando abbiamo cominciato un'azione ludico-recreativa, i bambini erano 20 e alcuni con criticità linguistica. Un numero importante. Esatto. Allora abbiamo deciso di fare quest'estate assieme a loro, di allacciare rapporti con le donne, perché secondo noi è talmente diverto il contesto che una guida, un'amicizia, un contatto con persone, amiche, senza nessuna grandissima aspettativa, ma stare assieme, giocare assieme, parlare assieme, può aiutare tantissimo. Avete fatto un CRES. Noi l'abbiamo chiamato, sì. Piccolo CRES. Estivo, luglio, agosto, un po' di settembre. Adesso abbiamo mantenuto i contatti, c'è Laura che è la nostra referente su Malgrate e da gennaio riprenderà un nuovo progetto in collaborazione con l'Equilture, col Comune, Fondazione Comunitaria. Quello che vogliamo fare è appunto creare comunità, creare dialogo. non si risolvono i problemi. C'è un problema chiaramente di integrazione, si parla anche dei ragazzi, di seconda generazione, insomma lo vediamo nella cronaca quotidiana, però partendo da piccoli, questo è un po' il messaggio, no? Cercare di includere, è ovvio che i linguaggi, quando parlo di linguaggi, parlo veramente di una simbologia culturale assolutamente diversa, disparata, però è importante trovare un punto di incontro, siamo certi che non cambieremo il mondo, ma secondo noi è il meno. Qualche piccolo passo si fa. Grazie, grazie per l'entusiasmo, per la disponibilità, per essere stata ospite nei nostri spazi. Grazie a voi. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ci vediamo martedì prossimo con una nuova puntata di Unica Talk. Grazie a tutti i nostri spettatori